Non si muove foglia che Don Beppe non voglia Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video Come sempre vi invito a mettere un bel like Ancora prima di partire con il vero e proprio contenuto Per supportarlo nella maniera giusta Aspettate la fine ma non dimenticatevi di commentare Perché non solo vi leggo ma vi rispondo E tra poco risponderò ad un vostro commento Un commento che mi ha fatto molto molto piacere E' un commento di critica ma è un commento di critica molto costruttiva Fatta da un milanista al quale voglio dare il mio ringraziamento per averlo fatto Ma prima di tutto iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto E attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato Ogni volta uscirà un nuovo contenuto E cosa più importante condividere questo video Facciamo conoscere a tutti quello che stanno facendo Carta canta firmata da Don Beppe Non ci credete? Adesso lo andiamo a vedere assieme E poi attenzione perché pensavate che l'internazionale fosse morta Invece assolutamente vi sbagliate Internazionali Argentina avanti dopo i rigori Ancora decisivo il Dibu Sanchez Attenzione Pensavate eh Sanchez quello lì E invece Sembra che non sia nemmeno arrivato a battere i calci di rigore Ma l'internazionale va avanti Quella italiana ha fatto una figura barbina E non se ne parla più E invece quella argentina sta andando avanti Grazie Secondo il giornale Online Internews.it Quindi se dovete denunciare qualcuno Mi raccomando denunciate loro Poi vi leggerò anche quest'articolo se avremo tempo Ma è proprio una barzelletta Il messaggio al quale Ho risposto volentieri Che vorrei farvi leggere È il messaggio di un milanista Che risponde al mio video di ieri Quando ho detto che Riguardo al calendario E qui c'è carta Non che canta Ma che grida Non mi ricordavo di partite Particolarmente impegnative Nell'infrasettimanale Durante la Champions League Per quel che riguarda l'Inter Il Napoli E ho detto anche il Milan Giustamente I tifosi del Milan Mi hanno risposto E mi hanno risposto in maniera Impeccabile Ve lo voglio leggere Ed è per questo che Alla fine Devo chiedere scusa Per l'inesattezza Nel ricordare Che ho riportato ieri Nel video Il messaggio è di Davide Olivieri Che mi scrive Ti sbagli Guarda il Milan Lo scorso anno I big match Con l'infrasettimanale E me le scrive Pari pari 39-2023 Milan-Lazio 4-10 2-0-23 Borussia Dortmund-Milan 22-10 2-0-23 Milan-Juve 25-10 2-0-23 Paris Saint-Germain-Milan 29-10 2-0-23 Napoli-Milan 9-12-2023 Atalanta-Milan 13-12-2023 Newcastle-Milan Se queste qua Non sono partite Importanti E infatti Io risposto Ciao Hai ragione Sono andato a vedere Dopo alcune vostre sollecitazioni E mi sono sbagliato Oggi nel video Lo dirò Grazie per il tuo commento Questi sono i messaggi Che si devono mandare Lo dico a tutti i prescritti Che stanno guardando questo video Quando io dico Che l'Inter è fallita Perché ha un mare di debiti E non paga nessuno Qualcuno di voi Invece di insultare Ma è la mia famiglia I miei figli Che siete veramente Delle cose indegne Che ci fate pure i video Mi rispondete così Mi portate fuori Le prove Guarda L'Inter ha pagato questo Il 31,05% Appartiene a questo Da quello Come ha fatto sto ragazzo qua Io ve lo leggo E vi chiedo pure scusa In questo caso Naturalmente Gli interisti Non sono a livello dei milanisti Anche perché ricordiamo Che l'Inter è nata Proprio dallo scarto Intestinale Del Milan E ancora oggi Rimane quello Anche nel modo Di rispondere Dei propri tifosi Perché questa è una risposta Esemplare Al quale io posso solo Chiedere scusa Per l'inesattezza E riportare Ancora una volta Il valore Di chi sa Esprimersi Naturalmente Se tu con me Ti esprimi In una maniera educata Io ti rispondo In una maniera educata Se tu mi insulti Moglie e figli Se io ti posso tirare via Gli occhi dalle orbite Lo faccio volentieri Ed questo è normale Ed è normale Detto questo Dopo aver chiesto scusa Ai tifosi milanisti Ma comunque Cambia poco Perché l'anno scorso Sono stato uno dei pochi A dire che il Milan Così come la Juve Non quanto la Juve Ma così come la Juve Era stata tartassata Da un sistema Che l'ha vista Protagonista Nel momento in cui Si è avvicinata Alla squadra Alla squadra di città La Juve Questo l'ho detto L'ho sempre detto Non mi ricordavo Di queste partite Infrasettimanali E appunto di questo Adesso andiamo a parlare Perché questa è la cosa Che ci interessa di più Ieri vi ho parlato Dei calendari Di come Alla facciazza sua È caduto il foglio Di come Alla facciazza sua Questo calendario Sembra fatto Con un sorteggio Dal solito personaggio Prima era Butti Adesso direttamente È occhio guercio Perché sappiamo Che la fortuna è cieca Ma lui ci vede benissimo E sa Sa Assolutamente Farsi i propri conti Andiamo a vedere Per quel che riguarda La Juventus E il Milan E l'Inter Le partite infrasettimanali Che avranno Incontri pre-Champions Che si incassano Nelle partite di Champions La Juventus Avrà Il sorteggio Quando le cose Capitano strano Tipo quando tu gli chiedi Fai giocare Alla next gen Nel girone A O nel girone B Poi viene sorteggiata Giustamente Per caso Viene sorteggiata Nel girone C Dopo aver fatto una richiesta Di non essere messa lì Ma questo è normale Quando Gravina Deve proteggere il brand La Juventus Quest'anno avrà L'Empoli Genova La Lazio Giustamente L'Udinese Il Milan Il Bologna Che l'anno scorso Ha dimostrato di essere Una grande squadra Il Milan Nuovamente E il Napoli Queste sono le partite Che avrà la Juventus Che andranno Incastrarsi con La Champions League Poi c'è il Milan Ragazzi tenetevi forte Perché appena arriviamo All'Inter Le bestemmie Usciranno in tutte le lingue Il Milan Ci avrà il Venezia Le c'è l'Udinese Il Monza La Juventus Naturalmente L'Atalanta La Juventus Di nuovo Mi sembra giusto E poi il Parma Quindi C'è l'Atalanta E le due partite Contro la Juventus Sono partite un po' Impegnative Diciamo Un po' Tanto impegnative Andiamo all'Inter L'Inter C'ha Naturalmente Il Monza L'Udinese La Roma Il Venezia Il Verona Il Parma L'Empoli Ed il Lecce Avete capito? O ve lo devo spiegare? È incredibile Che poi me lo vengono a chiamare Un sorteggio E noi ci crediamo Noi crediamo Assolutamente al sorteggio Come no? Ci stiamo credendo subito Tanto Che È puro caso È puro caso Che la Juventus Prenda la Lazio Che prenda il Milan Che prenda il Bologna Che prenda Il Milan di nuovo Ma anche il Milan Prende due volte la Juve E che prenda il Napoli Che quest'anno Non gioca le Champions Mentre l'anno scorso La Juventus Che non giocava la Champions Non ha mai Azzeccato nessuna Di queste squadre Il Milan Sì Ve l'ho dimostrato prima Però Parlo del Napoli La squadra che aveva ucciso Il campionato Poi abbiamo visto Un campionato con Ozyman Ancora lì Ci dormiamo sopra E l'Inter Che l'anno scorso Sembrava tutto apparecchiato Un po' come quest'anno Ripeto Monza Odinese Roma Venezia Verona Parma Empoli Lecce Cioè praticamente C'è le partite Con tutte quelle Da Serie B Riparte La Marotta League 2024-2025 E per chiudere Andiamo a leggere Perché attenzione Questa è una chicca Che vi porto Il calciatore Che era stato valutato 180 milioni di miliardi Purtroppo Non ha fatto Una bella figura Andiamo a vedere Che cosa ci dicono Con estrema fatica L'Argentina Cede alle semifinali Di Coppa America L'Albicelleste Supera i rigori L'Equador Dopo una sfida Alla Cardiopalma E che cosa ci dicono I campioni del mondo Soffrono lentamente L'avvio del match Ma Sbloccano il 35esimo Su corner Grazie al giocatore Lissandro Martinez Che raccoglie Una sponda aerea Da McAllister E deposita in rete A pochi metri Attenzione Perché dopo i supplementari Via la lotteria Dei calci di rigori Protagonista ancora lui Il Dibu Martinez Non l'altro Martinez Che dopo L'iniziale errore di Messi Cucchiaio sulla traversa Pare i primi due Di Mena e Minda E manda i suoi Al turno successivo L'avete già letto Lautaro Martinez Partito titolare E' rimasto In campo Fino al 65esimo Per essere sostituito Da Julian Alvarez Solo panchina Per Valentin Carboni L'internazionale Argentina Hanno capito Che andavano i calci di rigore Hanno preso Lautaro Martinez Aspetta prima che Tiri un'altra palla In braccio A Benjamin Price Mettiamo fuori E invece Per quel che riguarda Il super Grande Giocatore Il più forte della storia Valentin Carboni Manca un minuto Internazionale Hai capito? O te la devo spiegare?